Arriva Teramo Opera, la stagione lirica estiva che prevede appuntamenti nel cuore di Teramo, la Traviata di Verdi e la Tosca di Puccini, che andranno in scene il 18 e il 20 luglio in Piazza Sant'Anna a partire dalle ore 21. Teramo Opera è un progetto culturale realizzato dal Comune di Teramo in collaborazione con AX, Abruzzo e Circuito Spettacolo. Il circuito regionale di promozione e distribuzione dello spettacolo dal vivo è attuato grazie al contributo della Fondazione Tercas. Teramo Opera però non è solo lirica, le serate si arricchiranno di due percorsi turistici e no gastronomici e del patrimonio artistico della città. Ci sarà anche un percorso culturale curato dal Polo Museale Servizio Educativo di Teramo, che prevede una piacevole passeggiata tra le ricchezze archeologiche della città e riservato esclusivamente agli spettatori di Teramo Opera. Veramente una grande scommessa che ha voluto fare il Comune di Teramo insieme alla Fondazione Tercas e che hanno finanziato interamente questo progetto che noi abbiamo con piacere organizzato, promosso e comunicato e si tratta proprio di una stagione lirica estiva, quindi sotto le stelle nel meraviglioso scenario di Piazza Sant'Anna e non solo. Perché abbiniamo alla stagione lirica estiva, che vedrà i due titoli di Tosca e Traviata il 18 e il 20 luglio, abbiniamo anche un percorso enogastronomico e museale, quindi i turisti dalla costa e dalla montagna potranno venire già dal pomeriggio e camminare nelle bellezze archeologiche di Teramo, mangiare nelle bellezze archeologiche di Teramo e poi terminare la serata con l'Opera Lirica. Tutto questo grazie anche a un importante finanziamento? Sì, sicuramente. Per quanto riguarda proprio Teramo Opera sicuramente è sostenuto interamente dalla Fondazione Tercas e poi grazie naturalmente al nostro finanziamento ministeriale riusciamo a dare un contributo a tutta l'organizzazione.